Noi facciamo centinaia di migliaia di presenze sul nostro sito. Internet ha sostituito in gran parte la carta stampata, anche se il piacere della carta stampata e in particolare del libro è insostituibile. Internet diventa il luogo dove tutti vanno a prendere informazioni e molte volte le informazioni sono contraddittorie e non precise. Il problema sarebbe precisare, mettere a punto e avere siti più efficaci. L'altra cosa che posso dire, aggiungere a questo, è che oggi noi non possiamo più farne a meno. Non siamo un po' schiavi, io poco perché non guardo mai, però stabilisco quello che mi piace di Internet e quello che non mi piace. Ad esempio la rassegna stampa che noi vediamo, possiamo scegliere i giornali che vogliamo. E di solito scegliamo alcuni giornali che sono quelli più interessanti. Un augurio all'ADN Cronos che sta per varare il nuovo sito. Era ora, avete fatto bene, aspettiamo con impazienza i vostri risultati e veramente vediamo questo come un atto decisivo verso un futuro migliore per le agenzie di stampa, in particolare ADN Cronos. Grazie.